Inaugurazione di lusso per il nuovo auditorium del Centro Affari di Arezzo che ha ospitato le creazioni del concorso Premier 2012 nell'ambito di Oro Arezzo. Di fronte a istituzioni, operatori e buyers sono sfilate le modelle con indosso i gioielli premiati, tra i quali la 1R che si è portata a casa all'ambito riconoscimento della Minerva d'Oro per la collana Porta Fortuna disegnata dallo scultore orafo Enzo Scatragli. In tutto sono stati assegnati 9 riconoscimenti andati alle creazioni di Censi, 230R, Gruppo Graziella, Modula Gioielli, Nemesi, Prestige, Roberto Maggi e Semar. Tra gli imprenditori premiati c'è chi ha voluto dedicare il riconoscimento ai propri dipendenti, un segnale di unità importante in un momento di crisi proprio di chi intelligentemente vede nella proprietà aziendale e nei lavoratori il sogno di raggiungere un unico obiettivo. Il richiamo ad una maggiore cooperazione è arrivato anche dalle parole del presidente del centro affari Andrea Sereni, che ha ricordato come l'apertura dell'auditorium rientri nella politica di sistema che Arezzo Fiere porta avanti in supporto alle aziende del comparto oro affaretino.